ciao aspettate qualcuno ragazzi no no è che essendo una strada privata uso pubblico e inconsueto no ma non siete con noi no io sono il proprietario di laggiù capiscono a metà non c'è in vendita niente qua qualche contadino qualcosa cosa in affitto per che cosa in affitto io ne ho uno ma è occupato ma chi è lei la ragazza no 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 è inconsueto capisci anni fa ho trovato anni fa c'era una una prostituta che si prostituiva a metà strada si si qua proprio allora scusate anzi di dove siete no di dove sei originario di cos'è sinto no riconosco l'accento riconosco l'accento direggio direggio io sono cresciuto qua ma non abito e insomma via berneri è diventata anche un appuntamento è un luogo per appuntamento tutto l'europeo minuto per minuto del veneto no ma perché conosco la cadenza va bene